Ciao amici, ciao amiche, sono Roby Giusti della Pressa! Ecco le immagini esclusive da Roma! Il nostro inviato ci ha appena inviato delle immagini che nessun quotidiano e nessuna tv farà vedere. Ecco la situazione reale! Ehi, sto parlando con te, si tu, tu che hai perso il lavoro, tu che hai perso qualche persona cari, tu che stai pensando che sia tutto finito, beh, ricordati che la gente come noi invece di sperare che qualcosa accada, alza il culo per farla accadere, la gente come noi è caduta mille volte, ma non ha ancora smesso di rialzarsi, la gente come noi che non comprende il significato Ora inizia la nostra canzone, adesso! Siamo quelli che lavorano mentre gli altri rimbano, ma siamo quelli che agiscono mentre gli altri sono amici, ma non c'è! Ehi, sto parlando con te, la gente come noi non vola mai! La gente come noi non vola mai! La gente come noi non vola mai! La gente come noi non vola mai!